Non è risultato positivo né all'alcol né alla droga Lorenzo Bartolini, 19 anni, alla guida di quella Hyundai rossa che a folle velocità martedì mattina ha provocato lo schianto mortale di via Reginaldo Giuliani alla periferia nord di Firenze. Testimoni l'hanno visto sfrecciare già in via Sestese, bucando diversi semafori rossi facendo sorpassi a dir poco azzardati a colpi di claxon. Questo è un mato con la macchina, Bordeaux. Andava veloce. Fulicissimo. I residenti da tempo lamentano la pericolosità di questa strada, un punto, dicono, tradizionalmente problematico. Qui le macchine tendono ad andare molto velocemente. È già stato denunciato che c'è un cartello lì di limite di velocità 30 che è stato messo da un cittadino, non è stato messo dalla Polizia Municipale. È stato segnalato più volte, però il cartello è lì. Ho visto diversi incidenti, sia in questo punto che là di fronte al bar. Ho visto in tre episodi volare in aria le persone prese dalle macchine, esempio nonna con i nipotini. Ma questo non è un incidente come gli altri. Rimangono infatti da capire le ragioni della folle corsa costata la vita a Massimiliano Piani. Bartolini non si è fermato, neanche di fronte allo schianto. Poco più avanti, dopo aver abbandonato la macchina semidistrutta in Piazza Dalmazia, altri testimoni dicono di averlo sentito farneticare in strada frasi senza senso contro gli infedeli, ma anche contro i medici. Un folle, sembrava un pazzo questo. Giovane promessa del pugilato si allenava nella celebre palestra Illuminati. Adesso per lui, Lorenzo, andrà capito se era nelle condizioni psicofisiche per mettersi al volante.